Volevo ricordarvi soltanto che il 27 aprile al Teatro Gesualdo di Avellino c'è un evento speciale. Qualcuno ha bisogno di noi e dobbiamo essere solidari, dobbiamo essere tutti presenti. Più siamo e meglio è. E' il grangala della solidarietà organizzato dall'Associazione Babà al Roma. Vi aspetto tutti. Alessandro Incerto. 27 aprile 2023 Teatro Gesualdo di Avellino. A presto.